Ciao a tutti amici di Spamp in Auto e benvenuti in questo nuovo video. Oggi una cosa veramente speciale, una mina incredibile, in realtà una macchina che avete già visto, ma non con questo restyling. Vediamo se la riconoscete. E il mezzone è suo Matteo Nerva, qualcuno lo conoscerà probabilmente perché ha un profilo incredibile, magari ce la studiamo e mi insegna ad impennare come si deve. Ma oggi siamo qua a parlare del tuo mezzone, senti spiegamelo un pochino che cos'è, che macchina è, che modifica hai fatto, perché diciamo la verità non se ne vedono in giro. Allora, è un RS3 ABT del 2018, giusto un paio di lavori per portarla a 500 cavalli alla ruota e gli ho fatto intercooler, aspirazione in carbonio, mappa ovviamente, don't pipe, un paio di cosette. Velo degli scarichi della madonna, però mi hai detto che esce già così, giusto? Sono quali originali ABT, esattamente. Il modello ABT oltretutto esce con un botto di optional, a parte interne con dei sedili incredibili, volante e tutto, però i cerchi da 20, le pinze RS arancione, l'assetto dedicato. Sono arrivato e gli ho chiesto, Teo, ma che assetto hai montato? Ah, quello dei serabiti, anzi, lo faccio alzare perché era troppo bassa. Senti una cosa, questa macchina qua mi ricordo quando l'ho vista in pista Castelletto guidata da Lucchino. E com'è andata? Bene, decisamente bene. Oggi ci divertiremo, di certo non faremo la stessa cosa, almeno non andremo così forte visto che siamo in strada, però la proviamo, sono super curioso. La macchina ha un botto di cavalli, poi io l'ho sentita, fa un fracasso infernale. E quindi direi basta, direi che ci tocca la parte che a loro piace di più. Andiamo a provare. E io ho pure il tettuccio, non ti manca niente. Oh, sono emozionato. Ho provato poco tempo fa la Golf R di Frasca manuale. Io era una vita che non provavo manuale, minchia panico. Il volante è una figata incredibile, bella alcantara, mamma mia che bello. Quanti cavalli esce di serie? Ne dichiarano 500, però sono all'albero. Ok, alla ruota? Alla ruota sono circa 430, 440 cavalli. Bene, perdi un bel po'. Vai a guidare un giocattolino, oh, la sento mega rigida. È un go-kart. Subito. Madonna! Madonna, ma quanta coppia c'ha! È un go-kart. Ma la voglio! È veramente, veramente incredibile. C'è un botto di coppia, ma poi sto sound figa ti porta a esagerare. Mamma mia, mamma mia, ma che bella che è. Poi adesso non ho neanche sulla mappa, quella dedicata, con intercooler, eccetera. Ho solo quella BT che... Ah, quindi in logica adesso è 430 cavalli, più o meno. Sì, esatto. Altrimenti con la mappa quanto arriveresti? Ecco, 500 puliti alla ruota. Porco di... Il rumore del 5 cilindri però è fenomenale. Mamma mia. Sembra un elicottero, sembra. Mamma mia. Io poi ti dico la verità, in strada, bene o male, sempre tranquillo, c'è giusto, fare le cose serene. Quando sei sul dritto, quando non c'è nessuno. Sì, sì, esatto. Per rotonde, ok, non mi piace assolutamente fare l'asino. Sì, anch'io, zero. Eppure figa, si guida con un dito. Che poi ti dico la verità. Siamo a 60 all'ora, siamo in quinta a 60 all'ora. Posso mettere la sesta? Senti. Sì. C'è proprio limpidissima. Poi in modalità comfort è ancora meglio. Senti, ma direi, proviamo a fare un lunch? Va bene. Cosa dici? Ok, ci siamo? Dio! Minchia, è un treno! Sì, è un treno. Penso di non essere mai stato così attaccato in vita mia, mai. Vabbè, che mezzaggio che c'è, mamma mia. Senti, vuoi guidarla tu? Oh! Oh! Io un treno! È bella incollata figa, eh. Oh, non scappa mica. Non lo schiodi, ma... Lo so anch'io che in paese ti rompono le palle. È una macchina bianca-arancione che passi a cannone. Sì, sì. Bella incollata figa, rimane lì. Che gomme usi? Io su le Pilot Sport. Le 4S? Sì. Eh, minchia, le migliori gomme che ci sono. Oh, vabbè. Madonna! Fia che tuonata ha tirato! Non si muove! Zero! Ok, direi che è il caso di far raffreddare. Abbiamo scaldato anche troppo. Madonna che l'amata! Sei proprio cattivo, eh. Oh, mi sono stra divertito. Ma una cosa importante è, se arriviamo a 10.000 like, non lo dico mai. Ci arriviamo sicuro, tanto, non lo dico, è una cosa normale, assodata. Facciamo un video in cui mi insegna ad impennare. Andate. Serio. Vi metto sotto l'Instagram di te, ho andatelo a seguire per il canale dei mezzi incredibili. Spero che vi sia piaciuto il video, iscrivetevi al canale. Ci vediamo in un prossimo. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti.